Ed ora invece diamo il benvenuto a Luis Navarro dei The Moors, ciao buonasera Ciao grazie mille Buonasera appunto benvenuto qui su Radio Beat Music, come va? Ecco molto 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 bene, siamo tutti emozionati per la scelta del nostro nuovo singolo e insomma speriamo che vada bene, vi ringraziamo per averci ospitato in questo caso per avermi ospitato però parlo sempre a nome dei The Moors Appunto perché siete un duo Esatto E ti va proprio di parlarci allora di come è nato appunto il progetto The Moors? Il progetto The Moors nasce qualche anno fa a Bucharest e Romania dall'incontro di questi due giovani cantanti, Luis Navarro e Mircoliva Praticamente noi ci siamo conosciuti nel momento in cui a Romania eravamo ciascuno dei due per conto proprio per progetti personali Alla fine ci siamo conosciuti in un festival internazionale di musica pop e ci siamo stimati a vicenda e nel chiacchierare insieme di fondare questo duo vocale nasce il progetto The Moors con questo brano Amor di realtà è appena uscito ma è pronto già da un annetto circa e l'abbiamo conservato proprio perché precedentemente c'è stato un altro progetto che abbiamo deciso di sposare che credo tu ben sappia quello con Giora Valentino ed è in questo momento insomma che è uscito Amor questo progetto scritto da un autore tra l'altro anche di brani celebri di Alexander Sun una famosa artista di musica dance e niente così nascono i The Moors insomma e da poco avete anche pubblicato il vostro primo EP esatto e con l'EP insomma che per me è molto importante perché sono usciti anche a riarrenziare un brano di Giora Valentino il più importante e più celebre del brano di Giora Valentino che è Comprami cercando di dargli una sonorità tipica dei The Moors ma soprattutto tipica del periodo estivo sai nel momento in cui la musica latinoamericana, la musica dance viene passata per la più bella dalle radio e è per questo motivo insomma che siamo molto contenti di poter ospitare all'interno di un nostro progetto personale un brano così importante e Amor è tutto l'EP dove si possono trovare o acquistare? Amor è possibile acquistare in tutti i digital source soprattutto, questo lo diciamo anche per una questione di classifica perché con il simbolo siamo riusciti ad entrare in una classifica top 50 dei brani dance più scaricati di iTunes quindi diciamo una finalità, diciamo ragazzi scaricate su iTunes però potete acquistare l'EP su qualsiasi digital source e tutte le informazioni si possono seguire sui social esatto sì, potete seguirci sui social anche andate su Luiz Navarro do Morso Mircoliva do Morso su Facebook oppure cliccate Luiz Navarro, Mircoliva su Instagram e insomma ci trovate lì quindi qualsiasi messaggio, qualsiasi informazione potete riceverla dai social e appunto visto che adesso in conclusione ci ascoltiamo Amor ti va proprio di farci tu il lancio radiofonico? va bene, allora amici di radioascoltatori questa è Amor di The Moors grazie a tutti grazie a tutti